Ciao a tutti ragazzi e bentornati sul canale, non vedevo l'ora veramente di girare questo video che sarà il primo spero di una lunga serie oggi andiamo insieme a fare un allenamento in palestra quindi vi porto con me in una sessione di judo e niente spero di non prendere troppe mazzate io ho appena fatto la borsa quindi possiamo andare ragazzi zeno preso come vedete stiamo per andare ragazzi siamo così arrivati in palestra e non vedo l'ora di cambiare perché fa freddo mi sono dimenticato la febba ciao ragazzi ragazzi sono appena arrivato ci sono i bambini dobbiamo fare prima la versione dei piccoli e poi ci sarà la versione dei grandi quindi adesso possiamo andare dai prima devo togliere queste ciao 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 Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie 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 a tutti 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 futuro quindi fatemelo sapere sicuramente che non mi piace qui sotto e noi ci vediamo al prossimo video un bacione grande